Terzo giorno di ritiro precampionato, doppie sedute quotidiane, un al mattino, presto l'altra nel tardo pomeriggio. Al momento il gruppo sta lavorando bene, non si sono registrati problemi di alcun tipo per i giocatori a disposizione di Mr. Gardano, che ha espresso soddisfazione per queste prime giornate, primi allenamenti dedicati alla conoscenza e alle informazioni dalla ripresa, chiaramente, della forma fisica migliore. A seguire il programma, insieme con il Mr. in questa fase, è il suo vice, Domenico Rana, conosciuto e intervistato in occasione della presentazione ufficiale della stagione. Ci sarà un avvio molto tranquillo per poi passare al lavoro serio e la preparazione classica di un ritiro. Quindi si faticherà un po', ci saranno carichi pesanti per poter poi iniziare come si deve la stagione. Il fatto di allenarsi comunque non in una temperatura, diciamo, fresca, potrebbe, insomma, può creare dei problemi? Stavamo parlando anche di questo col Mr. Gardano, sceglieremo degli orari consoni. Penso il mattino tra le nove, le nove e un quarto, nove e mezza e il pomeriggio dopo le cinque, sicuramente. Rana, più preparatore atletico o più vice allenatore? Più vice allenatore, sicuramente. Da questa stagione, allora, come la state pensando, come la state immaginando? È un'esperienza nuova, un contesto nuovo, perché i gironi comunque sono differenti, no? È un'esperienza bellissima, è una gioia essere qua, un onore. La società è imponente, è prestigiosa e ci aspettiamo grandi cose. Sicuramente possiamo promettere, non il cento per cento, mille per mille. Ci daremo veramente da fare. Il curriculum di Domenico Rana, per anche presentarsi ai tifosi, alla gente, agli sportivi. Ultimamente ho allenato in settori vicino al Torino Calcio, al Canavese, che è una squadra che militava in C. Da anni conosco Mr. Gardano, anche per un passato mio in Serie A, nel calcio A5, che è molto tecnico e non distantissimo dal calcio per alcune situazioni, e quindi lo aiuterò in alcune situazioni particolari, tecniche e tattiche. Il programma prevede intanto per il pomeriggio di domani una partitella a ranghi misti, una sorta di prima uscita, antecedente l'amichevole di giovedì prossimo. Da notare che al momento al gruppo si è unito un nuovo under, un terzino sinistro, la cui possibilità di restare o meno ingranata, verrà valutata nelle prossime ore.